Un buongiorno a tutti, bentornati, episodio numero 3 del corso di PHP e MySQL. Quest'oggi vediamo come fare una connessione al database, vedremo nello specifico tre modi per farla. Ne selezioneremo uno e faremo uno script un pelo più complesso col check della connessione e poi andremo a fare chiusura della connessione. È importante sapere che ci sono tre metodi per scrivere in MySQL con PHP. Possiamo scrivere in modo procedurale, ok? Oppure possiamo scrivere orientati agli oggetti utilizzando MySQL e I oppure orientati agli oggetti utilizzando PDO. A livello generale PDO sarebbe meglio, ma lo ritengo troppo complesso per iniziare. Già volevo andare sul procedurale, ma è troppo basico e credo che la cosa migliore da fare sia almeno utilizzare PHP orientato agli oggetti. È più semplice del PDO da capire e un po' più ordinato del procedurale, va però capito. Quindi per chi già mastica PHP orientato agli oggetti o in generale la programmazione degli oggetti non è un problema. Per chi non mastica cercherò di starvi appresso e cercare di semplificare molto la cosa. Se non sapete come funziona PHP ad oggetti, ho comunque fatto dei video nel mio corso appunto intero di PHP. Non perdiamo tempo e facciamo la nostra connessione. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare innanzitutto è andare a scrivere quella che è la funzione per connetterci al DB. Quindi facciamo dollaro connessione, ok? E andiamo a scrivere mysqli connect, mysqli underscore connect, ecco qua. E ci chiede usare host, user, password e database. Possiamo avere anche la porta e il socket, ma non ci serve. Quindi l'host è 127.0.0.1 oppure localhost, l'utente è root, la password è niente e il database si chiama tutorial mysqli, ok? Questa è la base ed è in versione procedurale. Altrimenti abbiamo sempre dollaro connessione, ma la facciamo in object oriented, ok? Quindi new mysqli, quindi stiamo andando a creare, anziché utilizzare una funzione di mysqli, andiamo a creare un'istanza dell'oggetto mysqli. Così appunto lavoriamo ad oggetti e è tutto molto più semplificato da leggere, molto più bello, molto più ordinato. Prendiamo le stesse cose e le inseriamo. In alternativa, possiamo andare a fare con pdo. Questa è l'ultima volta in cui vi farò vedere scritto, come si chiama, nei tre metodi diversi. Poi useremo solo php orientato agli oggetti, quindi new pdo. Ecco qua, fortunatamente me l'ero già segnato prima, visto che è un po' lungo. Hostname, possiamo mettere qua direttamente localhost. Database name, abbiamo detto che è tutorial mysqli. Poi qua abbiamo detto che è root e la password è vuota. Ok, fondamentalmente questi sono i tre metodi per scriverlo, quindi procedurale, oppure abbiamo orientato agli oggetti, oppure abbiamo pdo. Pdo lo consiglierei, ha parecchi vantaggi che adesso non vi sto a citare. Nel caso la documentazione che sto preparando sul mio sito fosse già pronta, la trovate disponibile sotto. Altrimenti vi basta cercare mysqli vs pdo su google e vi escono dei bellissimi articoli, fatti anche parecchi anni fa, che sono ancora tanto validi sulla differenza tra mysqli e pdo. Allora andiamo a togliere intanto questi e teniamo solo mysqli come oggetto e andiamo a fare qualcosa di un po' più strutturato. Andiamo a creare innanzitutto delle variabili, quindi host uguale 127.0.0.1. Ok, dopodiché andiamo a creare uno user che è uguale a root, semplicemente perché andiamo a centralizzare il tutto, anziché averlo scritto qua dentro. Meglio avere delle variabili qui che possiamo richiamare in qualsiasi momento, nel caso ne avessimo bisogno. Non si sa mai che ne abbiamo bisogno, quindi la password qua è vuota. E poi abbiamo dollaro database che è uguale a tutorial mysqli. Ok, quindi qua è fatto. Adesso quello che vogliamo andare a fare è prendere queste variabili e metterle qua dentro. E concludiamo con database. Ecco qua. Quindi così andiamo a fare la connessione al database. Ora, prima di farla, è meglio andare a mettere giusto un controllino, ok? If dollaro connessione, quindi stiamo verificando che la connessione è in check. Allora, in questo caso che non sia falsa, quindi che non sia andata giù, facciamo semplicemente un die, ovvero die andiamo a distruggere quello che è tutto lo script e lo facciamo bloccare. E scriviamo errore, facciamo errore di connessione, facciamo così. E poi facciamo un bel due punti e concateniamo. E andiamo a prendere l'errore direttamente da mysqli. Quindi mysqli e prendiamo connect error. Ok? Scusatemi, continuo a pensare a mysqli perché ho imparato con mysqli. In realtà è dollaro connessione. Perfetto. E questo è uno. Poi un'altra cosa che vogliamo andare a fare, ovviamente, quindi se questa cosa non si verifica, quindi se la connessione è true, quindi va in porto, vogliamo andare a mandare a schermo qualcosa e semplicemente facciamo connessione avvenuta con successo e andiamo a mandare a schermo delle informazioni aggiuntive. Quindi dollaro connessione, facciamo così e prendiamo host info. Eccole qua. Dunque, salviamo. Andiamo dall'altra parte. Quindi andiamo sul browser. Quindi localhost slash progetti slash tutorial php. Io non ho più esempio, ma ho semplicemente index.php. Ed ecco qua che la nostra connessione è avvenuta con successo. Vedete, ci dice qual è l'IP a cui ci siamo connessi. Quindi 127.0.0.1 e ci siamo connessi via TCP e IP. Perfetto. Andiamo a fare semplicemente una piccola modifica e andiamo a cambiare il DB qui. Salviamo. Andiamo. Tac. Vedete che ci dà dei problemi. Non riesce a connettersi. Quindi la connessione che abbiamo fatto pochi secondi fa era reale. Cioè non è che ci siamo andati a schermo così a caso. Vedete che qua ci ha distrutto tutto e ci ha dato l'errore. Andiamo qui. Aggiorniamo. Connessione è venuta con successo. Da questo momento noi siamo già connessi al nostro database che avete visto qui. Quindi questo qua, tutta la msql che vedete stra-zoommato. E noi teoricamente siamo già pronti per cominciare a lavorare. Unica cosa finale. Dobbiamo semplicemente chiudere la connessione a un certo punto. Più avanti lo dovremo fare. Per chiudere la connessione ci basta fare dollaro connessione. Close. Quindi direi che anche se sto usando PHP orientato ad oggetti, non credo ci siano problemi. È abbastanza semplice. Vediamo che abbiamo fatto un nuovo oggetto. Ma è SQLI che è ciò che ci permette di connetterci al database. Questo oggetto contiene degli errori. Quindi creiamo un nuovo oggetto, una nuova istanza. Andiamo a creare una connessione che è uguale a questa cosa qui. Questo oggetto connessione ha degli errori. Nel caso succedessero delle informazioni di host. E possiamo chiuderlo. Quindi a un metodo di chiusura. Non credo sia niente di complesso. Perciò sono ottimista e continuerò con PHP orientato ad oggetti per tutto il corso di MySQL. Dunque, direi che per la lezione di oggi è veramente tutto. Abbiamo fatto semplicemente una cosa, ma è la più importante. Perché ci siamo connessi al database e abbiamo visto come chiuderlo. Se è tutto chiaro, noi possiamo passare al secondo video. Vi ricordo sotto in descrizione per abbonarvi al canale e sostenerlo. E se volete entrare nel gruppo Telegram, io vi ringrazio. E alla prossima. Ciao, ciao!